Il Fondo per Sao Sirio è il fondo negoziale rivolto ai lavoratori del pubblico impiego, nasce dopo la legge di riforma del sistema pensionistico e dopo gli accordi tra le parti, ovvero ARAN per il datore di lavoro del pubblico impiego, cioè lo Stato e le organizzazioni sindacali. È rivolto ai lavoratori del pubblico impiego, dalle funzioni centrali, dai ministeri, alle agenzie, fino alle funzioni locali, cioè i comuni, le asole, gli ospedali, tutto quello che è la sfera del pubblico impiego. L'obiettivo del fondo, che è un soggetto non profit, è solo quello di raccogliere il capitale del singolo lavoratore e costituire il suo pacchetto previdenziale, ovviamente valorizzando il suo investimento e restituire alla fine del percorso lavorativo o la rendita o il capitale raccolto. In questo momento nel nostro Paese il Fondo per Sao Sirio ha circa 75 mila aderenti, ancora una percentuale troppo bassa rispetto al potenziale che il fondo ha. Le performance sono molto positive, ovvero il fondo dà una rendita maggiore rispetto a quella che dà il TFR e soprattutto molto maggiore anche vista l'assenza di costi, essendo un soggetto non profit, ovvero di costi relativi al profitto che nella previdenza di tipo individuale deve essere legittimamente costruito, nella previdenza negoziale questo non c'è, per cui le performance sono molto positive. Nel nostro Paese la legislazione prevede che il lavoratore ha diversi strumenti, quello obbligatorio che conosciamo tutti, l'Inps per capirci, la previdenza obbligatoria e poi dato che con il passaggio del sistema retributivo al sistema contributivo il legislatore ha previsto diverse forme aggiuntive al primo pilastro, ovvero la previdenza obbligatoria, perché? Perché il tasso di sostituzione, cioè la percentuale con il quale il lavoratore di stipendio, con il quale il lavoratore andrà in pensione, sarà un tasso sostitutivo più basso rispetto al sistema precedente, al sistema retributivo, per cui questi sono strumenti che costruiscono, aiutano a costruire una previdenza e dunque una pensione per il lavoratore adeguata per poter mantenere il tenore di vita di quando si era all'interno del sistema lavorativo. Il secondo pilastro, cioè la previdenza di tipo collettivo, come dicevo prima, è frutto di accordi sindacali e ha come unico obiettivo quello di raccogliere il capitale, perché è più vantaggioso? Perché al contributo che mette il lavoratore si aggiunge il contributo del datore del lavoro che è pari all'1% del suo stipendio ai fini del calcolo del TFR e questo consente di avere un vantaggio maggiore nel costruire questa posizione previdenziale aggiuntiva. È per questo che noi riteniamo che sia importante una informazione, una comunicazione corretta, giusta e costante nel percorso lavorativo del lavoratore in modo da poterli consentire una visione libera e consapevole. Da una visione che riteniamo possibile, cioè intorno al 25-30% dei lavoratori, ovviamente in questa quota io considero prevalentemente i lavoratori più giovani, diciamo così, cioè quelli assunti dopo il 1 gennaio 2001, perché hanno una carriera lavorativa che gli consente di costruire questo zainetto previdenziale, ma se riuscissimo a fare un intervento di massa nelle informazioni, in quella che chiamavo adesione consapevole, pensiamo che questa percentuale possa aumentare di molto, ovviamente anche incrementando le performance della rendita del capitale raccolto. Grazie per la visione!